Quella più lontana gioca con la dello dito e annoiata due minuti e se ne andrà quella lì è una tosferona l'arco peronista adesso parla giornalista l'unità non le oserei di più dire banale questo posto spero lo sai che tu e il trasmotismo di ogni anche lei sarebbe mia tutte le donne del mondo, tutte le donne del mondo con un schiacco di dito, un sorriso, uno sguardo diventano mie per la vita del mondo, basta solo un secondo sembra un raggio d'istinto, fortissima talento, promesse e bugie e quella seduta, quella vita appena entrata la chiunica è uscita fuori questa vera che per la vita che tutte le donne del mondo con un schiacco di dito, un sorriso e uno spardo diventano mie però di donna nel mondo mi passa solo un secondo tu non puoi guardarmi così tu non puoi guardarmi così tu non puoi guardarmi così no, non siamo equivocati del scenario